e si stiamo qua e gildare ciao ciao cari allora facciamo dei biscotti allora un chilo di farina 4 uova e 350 grammi di zucchero va bene ok va bene allora adesso intanto facciamo così poi 125 grammi di burro mettiamo eccolo qua sempre a temperatura ambiente si 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 ecco qua adesso poi mettiamo questo è arancio e limone arancia e limone poi una bustina di vanillina eccola qua eccola qua e adesso impastiamo se ce ne vengono una carellata ma dei biscotti a pasqua si mangiano un po' uno un po' un altro un po' si mangiamo e poi gildarella eccola il tavolo bello pieno gildarella nostra quant'è carina eccoci mettiamo una bustina di lievito per il dolci eccola qua e una bustina di ammoniaca 20 grammi va bene che io adesso andrò a sciogliere qui dentro al latte il latte è 130 grammi va bene eccola qua il latte è caldo si è tiepido tiepido ok guardate che bella quant'è bella mamma mia mi ricorda mi madre mi ricorda mi madre che dolcetti che dolcetti che faceva questi faceva lei è boni che so ecco qua vedete senti un po' dai e gildare tutta la tua energia si faccia st impasto va ti è qua chi è ecco fatto a pasto morbidissimo adesso ho finito da impastare eccolo qua e adesso lo metto al frigo quando sono pronta li faccio perché lo faccio riposare nel frattempo mi faccio la cucina e certo traffica un po' per casa così va bene allora andiamo a farlo riposare guardate che bello spettacolo gildare guardate guardate rimbalza guarda guarda ecco guarda gildare si sta divertì gildare e dai andamolo a far riposare e faccio la cucina su mamma sei riposato bene st impasto gildare si andamolo a vedere bello riposato si si guardate che bello adesso ecco qua vedete vai gisare la nostra tenderello dai e va una moda del mirello mattarello stenderello mattarello ecco della tia ecco qua manco l'acqua taglia sto cosa ma infatti devo lo dire che c'è l'olio dei gomi non c'è niente da fare dovete fare i rombi vedete ecco qua ok pure questi sono buoni eh mamma mia se sono buoni eh vabbè taglia sta rotella dai sì però è meglio quell'altra ecco vi faccio vedere mezzo centimetro voilà voilà ah sono buoni questi sono proprio buoni ecchi mettete qua qua solo che ci fai questo l'ovetto così vengono più carinelli eh sì sì adesso un po dovete ah quindi quelli che sono più lucidi è perché c'è passato l'avo sopra sì ah ecco ecco qua questo non sapevo io ma sono perso girdarella girdarella adesso li vado al fornare ecco vedete pochettino passatevi passate ce lo vado al fornare una decina di minuti massimo un quarto d'ora ancora 180 eccoli guardate un po che meraviglia bellissimi gildare belli e adesso facciamo la glassa eh allora la glassa a chi la sa fa sta glassa limone buona la glassa al limone gildare che spettacolo ecco la gildarella nostra anche carina gildarella nella sua cucinetta dorata proprio dorata sta cucinetta gildare è proprio tua unaiety ecco una pesta glassa eccola qua guardate che bella senti come profuma tra profumo desti biscottini il profumo della glassa che voi dica che fa va una goduria bella densa densa eh già è glassato qua facci vedere un po' che carino Gildare che carini confettini argentati guardate un po' sono amore questi biscottini Gildare guardate che belli che so andiamo a vedere guardate un po' che belli che so spettacolo questi sono proprio buoni 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 sono bellissimi Gildare guardate che belli quello è mio guardate che quello è mio lo sono boscata al posto questo è un altro che sta qua sotto al cioccolato allora ora aprimo uno vi faccio vedere com'è e tagli faccio vedere com'è Gildare fammi vedere fammi vedere morbidi guardate come sono morbidi dentro tiè sono nuvolette con un bicchierino di marsala o di strega ma non c'è però il marsala mi piace mamma mia buoni che spettacolo sono fatti pure più grossi va a posto di una cosa sono buoni pure dentro al latte la mattina so da in zuppo e adesso voglio salutare Emanuela Mariani ciao Emanuela tanti baci belli dal cuore sempre ciao Emanuela un bacio anche da parte mia e poi voglio salutare Rossella che ci segue da Palermo da Palermo ciao Rossella ciao e adesso un saluto lo facciamo a tutti quanti le mie adorate e i tuoi adorati e i miei adorati ci sono e vabbè fammi dire prima le mie le lei e poi ci sono i lui i lui adorati va bene allora tanti baci belli sempre dal cuore e mi raccomando fatevi perché sono buoni guardate che roba che spettacolo una meraviglia guardate che belli belli e buoni guardate che quadretto girdarella tutti gli anni li faccio io questi no vabbè li faccio pure quando ho qualche festicciola guardate un po' ecco è qua guardate una meraviglia fateli e poi ci fate sapere se vi sono piaciuti e poi è sbrigativa la cosa qua ciao amori miei ciao belli bacio a tutti ciao sempre 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 Grazie.